Prima di avviare il video, voglio ricordarti di cliccare sul pulsante Iscriviti, e di lasciare un Mi piace. Grazie per l'attenzione. Ora, passiamo alle ultime notizie. Ci sono speranze che Chiara Ferragni e Fedez possano tornare insieme, grazie a un gesto di Fedez che ha acceso le speranze dei fan. Poche ore fa, Fedez ha condiviso una sua vecchia canzone su Instagram, il cui testo lascia pochi dubbi sull'interpretazione. Per molti, il riferimento alla situazione attuale del rapper è evidente, finisce bene altrimenti non è finita, me l'hanno sempre detto ma io non ci credo mica. Nonostante il tempo possa lenire le ferite, Fedez sembra ancora desiderare la sua vita passata. Il rapper ha trascorso il weekend con i suoi figli a Rozzano, mostrando una particolare nostalgia. Mentre la moglie Chiara Ferragni era impegnata a che tempo che fa, Fedez ha voluto portare i suoi figli, Vittoria e Leone, nel luogo del cuore dove lui stesso ha trascorso la sua infanzia, Rozzano, il paese vicino a Milano dove vivono i suoi genitori.